Ciao ragazzi e benvenuti tornati al mio canale, sono Cesius e oggi siamo nella mia serie di survival di Minecraft. Ciò che voglio fare oggi è costruire un canale di canale automatico. Allora ragazzi, lasciate molto di like, abbiatevi e turnate le notifiche per evitare di perdere alcuni dei miei video. Allora, cominciamo! Voglio iniziare a scendere per 11 blocchi qui. Allora, voglio andare subito. Allora qui. Voglio esparmiare questa cosa. Ora abbiamo un perimetro di 4x11. Ok. Vogliamo andare subito per un altro blocco qui. Perfetto. Voglio mettere il blocco qui. Voglio mettere un doppio cazzo qui. Non così. Ok. Perfetto. E vogliamo mettere il hopper qui. Ora vogliamo mettere i raii. sui blocchi. Posso mettere su questo. E così. Molto semplice. Ora, mettiamociare. Allora, mettiamociare tutto. Questo è tutto il ruolo di rai. Ora vogliamo mettere un blocco solido. qui e qui, perché dovremo mettere l'acqua in acqua. E poi vogliamo coprire tutto. Perfetto! Ora aggiungiamo l'acqua in acqua. Molto bello! Ok, ora vogliamo fare la parte della costruzione. Potremmo usare gli osservatori e i pistoni. Vogliamo mettere il pistone come questo. E anche dall'altra parte. Ora vogliamo mettere i osservatori. Perfetto! Ok, non male! Il pistone è molto semplice. Vogliamo mettere i blocchi qui. E anche dall'altra parte. Ora vogliamo mettere il pistone come questo. E anche dall'altra parte. E questo è tutto il pistone che dovete fare. Perfetto! Ok ragazzi! Dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo andare all'altra parte. Dobbiamo andare con tutti i pistoni da un blocco. Oltremmo mettere il pistone da un blocco. È molto importante che non funziona. Ora vogliamo mettere questo minecart con il top. Voglio decorare questa cosa perché è uguale adesso. Ora faremo questo. Vogliamo andare per 4 blocchi. Qui vogliamo andare per 3 blocchi. Ok perfetto! Ora andiamo dall'altra parte. Molto bene! Ora vogliamo cercare tutto con questo. E anche qui. Fantastico! Qui voglio usare la terracotta. E anche qui. Ok! Molto bellissimo! Ora vogliamo cercare il ruolo. Ok! Ho cambiato la mia mente e non voglio i blocchi qui. Voglio mettere qui alcune strade. Ok! Bello! Ok! Ok! Dobbio! Molto bene! Ora vogliamo mettere qualche torsione, perchè i mobi possono spavere qui. E ora vogliamo fare tutte queste cose con i slabs. Let's add some torsione, and now we want to use stone like stairs, just down there. Ok, perfetto, now we want to use cobblestone for the corners. Ok. Just like that, and we are ok. I think that this can be fine. Now, from the other side. And we are ok. Beautiful. Ok, we want to close this right there. And we want to put down the sugar canes. Amazing. Very good. Now let's close everything. Now I want to make this just a little bit better. We can do something like that. Ok. 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 Ok, molto bellissimo e molto semplice. Posso anche mettere le stagioni qui. Ok ragazzi, come potete vedere questo è molto semplice e molto bellissimo. Spero che avete piaciuto. Quindi ragazzi, questo è tutto per il video. Spero che avete piaciuto. Lascia un like e un subscribe per altri video. Vi vediamo la prossima volta. There is Jesus. Bye! Ciao!